Lui prendere il treno e venire a Subbiano, andare e venire al centro, per lui era libertà. Quindi quella è una cosa che gli è mancata tantissimo. È stata una fatica speciale per i diversamente abili e per le loro famiglie il periodo del lockdown durante il quale erano ovviamente chiusi anche i centri diurni che loro solitamente frequentano. Adesso sono stati riaperti seppur con delle importanti limitazioni ma per loro è come tornare piano piano alla vita. Sicuramente essere accolti, essere uno a uno è stato un po' spiazzante perché loro vengono qua per trovare gli amici e socializzare. Poi c'è la grande difficoltà di fare tutti i passaggi, il tappetino, l'igienizzazione. La grande difficoltà poi diventa la mascherina che è veramente un ausilio invadente per loro. L'altro aspetto molto limitante è il contatto, per cui li abbiamo abituati a salutarti, dai la mano, saluta. Quindi adesso non dare la mano, dai il gomito. Nella zona sociosanitaria di Arezzo, Casentino e Valtiberina sono 14 le strutture che sono state riaperte. Ognuna di esse ha scelto una strada diversa in base agli spazi a disposizione all'organizzazione e alle esigenze di disabili e famiglie. Per esempio questi due centri, Falciai e Villa Tianinis, che sono due centri a gestione diretta della ASL, in compartecipazione con il comune di Arezzo, hanno avuto, grazie ad un protocollo stipulato ad hoc con la cooperativa Progetto 5, la possibilità di offrire delle attività di supporto e sostegno a domicilio degli utenti.